si rinnova la app di volkswagen oggi più colorata e caratterizzata da dotazioni più ricche arriva inoltre un nuovo motore top di gamma un mille a benzina capace di 90 cavalli e di una velocità massima di 180 orari che si aggiunge alle due versioni da 60 e 75 cavalli chi desiderasse una superiore parsimonia potrà optare per la eco app alimentata a metano con 68 cavalli o per la versione elettrica i app che ne sviluppa 82 all'esterno si nota il nuovo disegno dei proiettori e un cofano motore più scolpito per ottenere un look più sportivo nuovi anche cerchi in lega fino a 17 pollici e specchietti retrovisori esterni ridisegnati con indicatori di direzione integrati non meno curato il posteriore con gruppi ottici dal nuovo disegno e un accattivante diffusore gli allestimenti sono ora più vari e ricchi grazie anche a pacchetti di equipaggiamento sono disponibili 13 colori di carrozzeria 7 dei quali nuovi 8 design per gli inserti decorativi sulla plancia e 7 nuovi colori dei sedili possono essere infatti combinate in tutta comodità a seconda della linea di allestimento il modello speciale app beats inoltre dispone di un impianto da 300 watt che assicura a bordo un'esperienza d'ascolto un gradino più in alto delle aspettative su un'ultracompatta